Ringrazio il Signor Sindaco, il Signor D'Ano e tutti quanti hanno lavorato per questa iniziativa. Per tutti quelli che hanno lavorato anche fisicamente, mi riferisco alle nostre colleghe, che manualmente hanno effettuato un lavoro assolutamente incognato. Tanti sono i significati che stanno dietro una panchina rossa messa vicino a una pistura. Ma quello che più preme e sottolineare in questo momento è questa posizione che ci avvicina fortemente alla possibilità per tutto il sommerso, per tutte le persone che non hanno avuto la possibilità, che non hanno avuto il coraggio e per tanti altri motivi non hanno denunciato le violenze, che possono venire a sedersi in questa panchina, che vuole significare che la pistura è vicina, che possono venire a sedere in questa panchina, significa che possono venire a denunciare da noi e troveranno sicuramente le persone più in grado di ricevere questa testimonianza di violenza. Non ho altre cose da dire, non voglio sottrarre da tutti gli altri. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e spero che questa iniziativa possa essere così amplificata per il miglior senso possibile. Grazie.